Signori e signore, buonasera. Benvenuti alla prima edizione della Corrida Agropolese. Questa sera avremo tanti ospiti, gente comune prese dalla strada. Avremo chi canta, chi balla e chi ci farà sognare. Ne è passato di tempo ragazzi, vi aspetto sabato 22 febbraio al Paladiconcilio di Agropoli per una grande corrida. Grazie a tutti.